Cosa ne penso io? Che i primi a essere sostituiti saranno proprio quelli che non usano l'AI. Perché vedete, un avvocato tradizionale che scrive la denuncia, che scrive la diffida, non è paragonabile all'avvocato con la stessa esperienza che però fa scrivere la diffida all'AI e gli insegna anche come farlo a suo modo. È ovvio che è più veloce di quell'altro. Ed è pieno di professioni così. E sapete che cos'è questa roba qua? Non è il transumanismo, ma è l'uomo aumentato. Cioè l'uomo che diventa più potente grazie all'intelligenza artificiale. Diventa oggi più competitivo, no? E forse ha aumentato perché ne aumenti le sue possibilità.